l'indobre l'indobre con lucy e dita elena in dobre iniziamo conto del 51 5 4 3 2 ma ok come la vedi gli animali e lei è seduta se su quei palloni per far ginnastica atta una vita di notte che vi è più certo che in asta che solo che questo pallone è su un pezzo di terra grande come il pallone da più cosa che c'è una cava qui c'è miktor e stacchier che atta più ca e intorno c'è vuoto un burrone tutto intorno a foco dei più che vacute cocava quasi post cast capsa pasta che va sotto totalmente tanto che non si vede la fine e mi fita c'è con tante i giorni con comp e quindi lei è proprio in bilico deve rimanere lì in equilibrio perché se calze se si sposta da lì cade nel burrone io non ho scelto ma sono nata i più sono no vaga poi signori chiamato a smatni e tanda ho fatto un occhio chi dà l'autorizzazione dai ci posso farla nella stessa tacco ok diciamo al burrone di prendere la sua reale forma per lussi c'è visti da lussi sono tutto intorno sono come lei appaiono come se fossero dei fantasmi tempo sta c'è la lussi o no cosa non c'è questa volta che tu che ho sub smart work con i denti molto lunghi in realtà che ha portato che ha sempre ea guzzi guardata che salssona sull'entità i terri che anche ci sono che ci è stata la terra si sono le sue entità eteriche che la interferiscono quindi ci sono questi fantasmi c'è risolta duca lei appaiono come fantasmi perché sanno che così lei si spaventa ma c'è una scelta cosa che ho avviato a spostare 10 power ma in realtà dietro ci sono altri tipi di interferenze la pratica è stato emendocamico in corozaio interferenze vediamole allora c'è un grigio e sarac non se le noide farino un rettiliano un falconiforme e che c'era italiani falconi ok edl è stata scettista 3dl mentali è stata mentana di livello 5 erno spacciamo pianta ecco una di livello 4 erno spacciamo parte che è una di livello 3 erno spacciamo scia cieco 5 la pasta scanta con quella di livello 5 è quella che le crea questa paura è stata spacciamo pianta ecco testa è stata atturata voi e un'altra è una paura tipo terrore nel senso che la paura di c'è che le viene se cerca di far qualcosa ma è una paura che ha sempre ce le agisce con la paura toni e strutture si può avere anche una moto di strada espressioni fatte col terrore con la paura che ti conosciamo verso la fiata storia stati anche strano 4 è stata spacciamo carta con quella di livello 4 negatività vedo proprio negatività collegata alla negatività è stata spacciamo parte con io se chiamo sana snagato è come se ci fosse quando lei inizia un'azione come se ci fosse una freccia che abbassa le vibrazioni di un tot sempre è che da una facciata sera aperta la navietta con questo show e i tasti sava io sai che c'è anche la vibrazia sempre un tono più basso cosa soia che c'è 8 8 8 8 8 8 8 3 è stata spacciamo sacco allora quella di livello 3 7 che aspetta un attimo altro un attimo di vibrazione perché era chiarissimo prima adesso è sfuggito cosa è quello che era il trela c'è qualcuno che ti ferisce sta cercando di essere poi due di ieri no se si è sempre l'ora che l'andiamo si è potuto fare le vibrazia stranamente trusca ok ok a posto allora quella di livello 3 come se la facessero agire come se lei si sentisse piccola quindi sempre in uno stato di come se fosse in difesa no quindi in uno stato di posso dire come se si sentisse piccola quindi si atteggia in maniera tale che le persone con lei si comportino come se fosse piccola ecco è stata spacciamo c'è che la persona di stacca cioè stacca malenca i basbron ci sono impianti mentali cioè stiamo in planta mentana se c'è questo impianto mentale che è collegato soprattutto all'entità di livello 5 gli est in planta mentana si è stata spacciamo pianta che nella sua testa è come se accendesse proprio una spia di allarme no quindi vedo come se si accende una un insieme di impulsi elettrici verdi così la facoltà tata capisci non c'è questa pallavacità con lampka attacca all'armi tanto ci fatto come color gelona vedo che ha paura a 360 gradi finita che stracca o c'è stata 60 stop mi fa con i ci sono impianti eterici cioè sono in planta teresa allora si due qua sulle spalle a una destra una sinistra sono in planta no per ora mia ma poi uno libero dell'ombelico con line in planta facolica penca e poi due sopra le ginocchia come se fossero due fasce intorno alla appena sopra il ginocchio intorno alla gamba e fa in planta nato più di fama scuola nabeta che devo paschino con la nami ad essere una sinistra a cosa servono un totaco scusa a tutti e 5 servono a tenerla la vedo durante queste abduction che la tengono sospesa attesa attraverso questi impianti te in planta facendo tale cosa che non lo sappierai oltre un profasario l'experimento stata in planta e maio mi ha avuto se ma sta nella savia scena e durante le abduction le creano tipo un campo intorno il track c'è un profasente in planta e creano poco niente a che pola che fa sì che nessuno la sua energia abbassano le vibrazioni e cercano di diffondere all'esterno del suo corpo la sua energia obbligare i miei fibrazi starai a scena rossi anni ti fa stava nero che fa coi ciao a nasar non tu hai visto sì dimmi e da questo una specie di teca rotonda cilindro trasparente creano questo campo con la sua energia che è poi risucchiano chiesa che stacca gablota che sta che c'è l'interno di una stessa osnia energica tra potenzialo sfoglia gablota in caplotica blocca ok tu hai visto claudatlas a sì forse si è sette anni e era una feceva ferma al massimo non mi ha nuovo il titolo non mi cartelli wachowski e sorelle wachowski molto molto lungo durava tre ore e mezza forse dell'arte delle nuvole quando è detto impianti appesi c'è una scena molto cruda di donne senza testa appese su delle catene diciamo di monti di smontaggio di smontaggio e usati i corpi usati ovviamente per vari fini lo siamo verso la tampa capata nostra non è compito che era un femminino elena bocata ma che scopriate per scufi io ho notato questa persona che stanno fiazza no sa che dovevo vederlo ma non l'ho visto poi alla non mi faceva sta riuscita che fermo ma che risuona alla tasca torna coccetto 3 c'è poi a rosa allora non vedo nel suo caso non vedo che usano il corpo vip sapato con i fizzera abuso fariccia va però come se riuscissero a prosciugare completamente l'energia facciamo non ci si progettava un'energia e quindi poi lui si esce dalle abduction che è l'energia completamente scarica fanno fanno degli esperimenti in altri posti come dici tu con i corpi da che experimenta corretto muovi lucia c'è una roba masco live in mista quello che vedo è che è come se fosse in qualche maniera quello che hai detto tu il passo successivo all'effetto del cinema tazza video lucia l'enamo che c'è tesa come colline è tap il psicologico effetto stappava i morti si c'è un passaggio dove prima di di morire chi ci va accato diventa quasi come ne vedo tantissimi che diventano come zombie che sapete che con lei nella età pesa animata la sua base a scopar covano usate perché tab che c'è stai a scendere mangiata che lo zombie e in quel passaggio di usano corpo passaggio tra zombie e la morte usano il corpo nel modo in cui detto tu in un tema tappi mezzate ma zombie momento mi era da no sabato va a certe momento cosa fare un ciavorto che sposa che trattiamo pisa us e tagliano varie parti del corpo non solo la testa ottene euro per la testa ciava a volte le mani e volte i debiti giustamente ogni cosa mi stop premesso che i guaccio schi sono nel sistema e sanno delle cose e le devono dire in una film da quattro ans che sono statale cosa stiamo i propri film informo faccia parla strava nel film questi copri vengono usati per creare del cibo che veniva poi somministrato da altri schiavi film e tante ciao a stavere cosa stefane una cosa viene la che sta mania volnico veniva ma sotto forma di corti formi veniva tritato e poi usato come cibo ciao suona una ciavorto cosa stefane copposa viene io vedo che sostituiscono delle parti di cloni vede cosa sta in poi un trance ciava con parti del corpo umano per vedere se questo fa sì che ci possa essere la ps in questi cloni cosa sta in poi a trance ciava cronatrice amiciava luci e sabato parte porta che non sta sta in pieno fai gettando sarta carta che gocrano va bene va bene ok che i due cretini ci sono ancora no no vabbè non traducemmo neanche non hanno importanza nome del progetto di trasmutare trasmutare trasmutovac perché la sua energia viene assorbita e poi viene provano ad inserirla appunto in un clonio una cosa di anarchist paniana con nienta sta si potrà nostra testa trasportava nato clona vibrazione gli acrisi di brazia lussi 8 76 milioni o semplici un accidenti smirly milioni consapevolezza passiamo si fata mostri 97 per cento g 20 sanciata in prozant psp è una vacata usato 37 63 suggesti sia tanto sa ciava terra cima nome della ps i miei addosso karkis 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 che vuol dire stato smaccio mi sa a vedere tipo una pianta grassa spinosa poca cosa che mi acconcerà scena trasporta io col tasto cactosa nome della p e i miei doc ha i miei ciao a terzi nago pallone 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 più ca più ca perdite precedenti perché vedete che sto imparando il polacco nel pazzo 3469 tessate chance città resta città di saint jeffens youtube piccino c'è noto ci sono stati scopo pausco ma poter avere avete quella cosa di duplice duplica duplice c duplice cervello però tanto safan e comosco 8.9 facciamo c'è una che c'è venti per tanta va bene i valori sono da fame svara tra venni che tras una vibrazione che più bassa non la vedo da tempo tac nischi e vibrazione torna gli amici dicono sassi rarissima la vibrazione sotto il cento per cento di una frequenza una consapevolezza sotto cento per cento che non vedo da tanto tempo poi siamo lasciata ma sti e poi il resto sono stati appassati con che troviamo e tanta tanta paura in ogro o cron stracco chiamiamo la paura tavese di metastra luci ovviamente come viene la paura c'è una entità mentale collettiva paura c'è con l'externa è stata mentana siamo dalla nostra strada sì tac si questa specie di cupola enorme scura grigio scuro sta cacciando sarà copua e crea proprio l'emozione paura si parla coppola crauglia un altro test traco e vedo questo la paura la vedo come se fosse un'enorme nuvola incalzante rossa tac mora caso riesce tanto straco caso riesce alla mia cota caccia rca c'era una comora che solo a guardarla si si può sentire proprio l'ansia la paura che crea c'è intercorsi non soccano i coppati sani anani tu c'è sacchini e poco il track c'è l'istinto è di andare lì e accalmare proprio la paura perché poi avesse un stato che instante sapete un po testi come un rai da un contrasto a cuspo coach bene facciamo un po di esperimenti entro io nella scena con una maglietta bianca tutta la sorpetta che l'experimenti scottriano stana biaweco solta me la tolgo anche un pennarello nero in mano stanza per i mantoni carne pisac e sul davanti scrivo io non ho paura il piaccia non sa piaciuto io sia ogni boia e sotto infinito a portata ma che ne scontano si chiedono me la nostra firma mi metto la maglietta e vado a trovare l'entità mentale collettiva paura cosa cosa non sovieto anche sul capo non è vita è una spot cani è stato con l'actor no strano e volo così c'entro dentro esco entro esco entro esco e faccio tutti i buchi che voglio sapere crown salata non sape frota da srotca da cosa e la piatta che tanti ora che cosa è che tracorta è così taxi sì 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 cosa vedi ma cos'è un cappello una cupola sì una cupola tra che stasera tra il copone va bene adesso la trasforma in una nuvola perché mi piace di più tratero sia un transform è stata un'ora poi nevasse comore mi separa paio fatta di fumo non è vero che colore a questo fumo ea che ma color tandem grigio oscuro c'è un affare entro esco dalla nuvola a volo faccio quello che voglio cosa tanta cosa è stata da te comore che cosa ne era piuttosto tanto il resto dentro la nuvola ingabbiato fregato appiccicato come una mosca cosa stai a tante cosa capsa con leona doni perché non ho la maglietta bagna mamma con fuori che se lo farsi anche probabilmente senza ok allora chiamiamo lussi con una maglietta bianca un pennarello nero in mano da teresa poi ma lo si abbiamo un corso il comitano flamastra vediamo cosa mi sa parte ma troppo ok è scritto solo la maglietta davanti io non ho paura e poi ha fatto l'infinito una pensava una consulsa gli asceni e boias ma con gli scontro nostri pot spada mi fosso vasco tratta la scivita un coso che se l'è messa e poi che fa inizia rapi e inizia a fare quello che hai fatto la differenza che è un po rallentata perché ha è agganciata lei l'emozione paura quindi quest'enorme nuvola rossa è agganciata ai suoi piedi quindi quando lei va fa un po fatica ad entrare uscire rapido quattro stavano sotterro oggi è vero di tanti servono il cuore sta con l'uslita un giro più testa che sposo bardo pavone poi ne va sono natale spaventano ha fatto tutti stracoli potete un po con tono andate il cuore ma fatica ma riesce strada in terapia l'euta di cerito se ci mette solo più tempo taxa i moni e rindo sai in piena di giusto va bene chiamiamo tutte le ps che vogliono venire quelle che sono interessate in parte o tutto in pago tutto in parte dalla paura scherz che tectore faccia stessa cosa niente problema strada di quelli che si presentano riguardanti riguardati dalla paura e spesso terzo scherz che cosa tanti a serie di aiutate testa e dividiamo in due categorie poggermette a sapere categoria quelli che non hanno trovato la fiamma qualunque categoria e quelli che hanno trovato la fiamma qualunque categoria 1 2 3 e attaccata coriato a ciclo nazis foibili stato può minato cate coriato certi giorni analisi di complessi nata coppomiene punti con la maglietta bianca il pennarello nero abbiamo un console con i tarni in pista che ok sappiamo tutti che cosa stiamo per fare chi vuole farlo lo fa sentendo prima queste parole la vita è solo un gioco un esperimento l'idea experimenta il nemico di questo esperimento rock tech o l'esperimento nemico principale non è il rettiliano govne govne brock tani e stratelli anni o qualunque tito eterica cerca cose che non è stata eterica non è qualunque etità mentale mi stavrà che non è stata mentana non sono le conseguenze impianti conseguenze implanto fra che fa il fatto di essere o non essere degli addotti fact beccia c'è ne beccia ho provato non dipende da nessun capo come lucas o dino zeus mi sarà già fatto lo casto zeus men che meno quelli del secondo universo a tempo che coppia scatta così donne satana ma lo ha luce farà ma quello che blocca a noi che siamo dei allettata nata la parte blocco e actus e stessi ma bocchiam tacata e traducilo quella cazzo di nuvola che avete lì davanti la tappa 30 con un racconto ma c'è stato la paura stracca prego allora allora quelli con la fiamma lo fanno con diciamo più più forza e più velocemente certo già dalla scelta i pomini ero bianca scelta cosa viene fatta con energia è come se la loro maglietta fosse più luminoso un bianco più luminoso rispetto a quella degli altri da capirco solo che barge ita chi è parte città che con la sinistra con la rubiera in estate troppo gli altri lo fanno ma ci mettono un po di più e meno forte la maglietta quindi ci mettono un po di più cosa stava gruppa testa robia lasciamo in tutta la sua barata un tavone ismini sono ma il fatto che sono venuti dopo che dopo il richiamo alla fact fa sì che loro entrino già in azione quindi si lo fanno ma ci mettono più tempo ecco stiamo a causa di sostanza che sta in poi andata giovanni al 6 momento pieno di tasso ok c'è qualcuno che conosci che è arrivato e che fai i voli dentro la nuvola felice contento c'è stata che ci sono così adesso che sono un'altra cosa che è stato fatto che ci sono grazie a sì e e e o no no rimane c'è una persona che conosco marie ma rimane fuori come se volesse entrare ma non ci riesce ancora io sia il nostro patrono snamore questo stai da un po cune ne potrà che totta e veste doffa prendiamola ad esempio cosa gli manca toccano 4 ciò che è braco che si può dire sì è come se gli mancasse sotto sei tipo quella rete quei materassi di funambuli quando fanno le acrobazie lì che camminano sulla corsa sotto c'è la rete pochino un autoresce oggi acrobato facendo linea per a cui intanto che i chat che o cron e post foto gli manca la rete sì però poi avrà questa piatta e sciat che cioè un piano b cioè che spandano sì qualcosa che gli assicuri che non muore se cade tac saperne sono ogni anni a un sacco panni ma è un gioco alla testa cosa bava si può morire nemmo stato uno sacco si possono giocare il gioco non ho stato con grazie a favore del burrone poi si sa passi quindi ha paura ciò che poi si ha quindi non ha messo la maglietta tania davosate con solchi no non è neanche entrata nel campo da dove prende la maglietta niena vattene ora un certo amminista che piace a tonco solca non si sente un loser genitore si è toscata che il user sacrane anche se trova tocco piangete l'uso di sé 4 e stata cosa usa la cena trova che come lui come quanti altri io io sta che con 125 milioni sono stato la vista pieni milioni li vedo proprio in piedi sul bordo di questa azione qua sto io non ho bisogno tanto mai ho seguito al sabato con la stagione questi 125 c'è anche lussi gli astanta slussi no no lussi già prima con noi l'ha fatto fatto negli allo stesso frattino troppi ma si 125 milioni hanno in tasca un palloncino sgonfio tastata di sapiens milioni off ma è un terreno che segni più etica può spaziano un po che è il loro personale uomo energia e sta a vista logica trova che energia si vogliono se lo gonfiano e se lo abbracciano gli stessi sono con una pompa facci ma con coppia tolici o biancico la persona che aveva preso ad esempio lo fa fa 4 dopo la rispera abitata se le frequenze si alzano lo fa anche lussi in questo momento ma non so se che i brazzi era abitata cosa lo si dai 876 scarsi milioni l'alziamo a miliardi e miliardi torniscono i brazi e spazio anche se si può trasparsi a sacco da fiaro fiaro miliardo a quanto sta lussi a questa ras di brazzi alessi 5 miliardi non si è sentito 25 va di statenze 5 miliardi miliardi si è saltato un attimo ok quanto sta la persona campione a tante ha messo e con molle brazzi su tante sa quattro 13 sono asti miliardi sono asti miliardo si butta uno già vattene si tiene però l'uomo energia l'ha messo sotto come se fosse volante si attacca la poteva lo sapete ecologica nel che tampo spot amico attaccata come cronata che fanno da fanno la tante tutti i 125 milioni fanno questo salvata group card libro pasto dove sta pieno merino propita se c'è chi si chi lo usa come se fosse un palloncino qui si appende tecnico uso fai a molto ecologica e cosa con più atti che c'è chi lo ammette come zaino con il paracadute nick to show mi stai ancora sapendo apprezzata stelotta che completà casa da spado crona e chi si fa trasportare stai in imparato troviamo sottosegnata uno di che sono città ministra lo fanno tutti maglietta pennarello scritta io non ho paura e vanno a piangare la nuvola era bianco scebbi era un canco sol casna pesta merita un tango la vecchia mura mhm mhm fanno tutti se adesso si è stato rapidito la stacca ricordiamo a tutti i 125 milioni lussi tutti quelli che guardano il video che l'uomo energia lo creiamo noi non lo creo io saponni metters che un posto testo pieno milioni lo si è la carta e stanza per croire logica neaco crea come e tutti questi hanno preso coraggio diciamo aumentando le loro frequenze con le loro frequenze e traccia stemi di auto fa che poi vibrazia e poi non fa le vostre vibrazia sì un altro modo per dire che siamo i creatori di tutto e ci giochiamo il gioco come ci pare piace mi sono raggiunto messa mi stai creato ramigra metto un grattacca calata merca ma quindi c'è qualcosa di reale e qualcosa di non reale il reale è il nostro potere divino creano e smascia bosca moz e la frequenza e fibrazia il reale è la paura anni reale ma nirani extra bene salutiamoli tutti abbiamo lavorato tanto sulla paura finalmente oggi la trassa posa con i metà scherzo a pagi sbarciato sopra fa fa le scelata strada e abbiamo il quadro completo di lussi vediamo un po di cause esoteriche e i viteri ma se sono esoteriche luce di trassa che il caffè che il capo siano stata retina causa soterica di tante operazioni subito sotto una stata regionali c'è una copa razzi le vedo io le vedo tutte collegate a queste abduction dove l'è appesa vita chiamato se mi ho provato a nami tank c'è una viscita che sono a pochi e su se è come se mettessero degli impianti temporanei che usano solo qualche volta poi lo sport elimina non ne mettono altri perché come stracca teccato a nostri quadari e tempo stava portano in plant a porta mia fai muoio causa soterica delle delle tre volte tumore c'è nata 3 ma non ho fatto foro ascerata ti vedo più che c'è una causa diciamo indiretta nel senso che il fatto che le sue interferenze fanno sì che lei ha le vibrazioni tenga le vibrazioni basse molto basse tutta la città veniva spacerà di off the shop at con tassi che interferenze cittura una posciata spavano sia una ma bostonis che vibrazia crea questa negatività emotiva e crea tornata che negate una emozia che fa sì che si formino questi tumori come formati consacrenti dopo facevo adottato adottato il nuovo foro insulino resistenza insulino porno mi appare come come una barriera nel ciclo dell'insulina cos'è la mia catacca barriera secolo insulino fa sì è come se vedo scorrere vedo scorrere il sangue e come se ci fossero delle barriere nel nello scanel matto metabolizzare gli zuccheri poi nella sabbia crea una fece che sta che barriere si coge o metà polis a fanno allora in eterico e come se vedessi troppo delle delle chiusure dei vasi nel momento in cui ci dovrebbe essere appunto gli scambi chimici per metabolizzare lo zucchero non c'è nato in evitata che cosa mi è cascata una cegna come in cegna finita oggi sta protesta metà polis a fanno articolazioni problema se stavamo e questo questa sua paura che fa sì che lei debba sempre stare ferma lì non si può muovere se no cade nel burrone diciamo cadeva per stan strax testa nel potente cova e già non diceva sceglie signor ho ma un po c'erano ragione straccia ronava che spada da te la pastica crea questa continua sensazione di insicurezza e instabilità e tappa foto venite che c'è anche auto c'è braco per noi sembra con stabilo nostri perché ha fatto sì che le articolazioni si indebolissero conseguenze espraccia rassoni un po come se fosse un astronauta no nel vuoto astronauta prusni sovrappeso nat vaga questo l'ho già visto prima c'è questa cosa che vedo spesso quando c'è sovrappeso questa sensazione di vuoto che si crea che deve essere in qualche modo colmata come se ci fosse un meccanismo come quello dei polmoni con l'aria no quindi pressione negativa che crea un vuoto che deve essere riempito da che provano dopo negata nato pota un post che invece che riempirlo con l'aria è come se dovesse essere riempito col cibo tempo sapato con la mia sveglia ministra povera trampa di data povera viene bassa energia mischi facciamo enerchi sono le d'action da ciò che ho provato a nia c'è proprio esausta data d'action stampa un po fa nasa marchi che sono il anami chance 2 la settimana fa nato e genio abbuffate compulsive composterna piadane se si è proprio quella quel vuoto che si crea quella pressione negativa che si crea che deve deve riempire lo spazio vedo in eterico c'è proprio uno spazio da riempire questa post cata c'è stata una catturna tutta città che una catturna vedo che questo è spazio creato da quando era piccola ma trasferito 2 vedi cinzia vedo che come se ci fosse stata allora in eterico mi fa proprio vedere lei piccola poca sui mesi che stiamo una pagina di retina ma un gioco poi vedo suo padre mentre suo padre si sposta quindi si allontana si crea questo vuoto che lei colma col cibo evita e tambo bocni o ita ita noi c'è spaventato oggi o dalla c'è il tampo scattarò notte del show e oggi ho nato io sono uscita panici e tania come se dovesse colmare il senso dell'abbandono di suo papà e come usciava trappi città città muto c'è ma posso tania ottene una stranoita e quindi tutte le figure maschili nella sua vita che sono sparite se ne strana trattata altro che stanno che stanno scendere c'è cosa che resta moto giri causa esoterica dell'ansia sotto il naso tra cina ogni poco io flanco entità mentale di livello 5 è stata mentale a spacciano pianta eco ipersensibilità una vera sui fossi entità mentale di livello 4 è stata mentale a spacciano parte con difficoltà con la relazione nella relazione con la madre sopra relazzi asma mo lei si atteggia sempre come una come una bambina stato che ci sono potenti cosa non so che voi città che può mangiare con tasto e la mamma si atteggia lei come se stesse parlando con un adulto ai mamma scola e moffi tonità che abbiamo fiumato sapete rosso i quali invertiti sì ci arriva sfrutta marola stessa domanda per la sorella tasta ma petani si faceva sgombra la stessa strom uguale come se lei con le figure femminili a lei vicine agisce sempre così in tutta e pensamma anni e sono una sascia che mi figurano in schemi faccia stessa domanda per tutti e passano petani si faccio relazioni schemi no allora verso il verso conoscenti o persone che non conosce lei si atteggia invece come se fosse una bambina e quindi in questa maniera in discesa su pacco in una cosa ho notato poi c'è stata che vuota con per sbronno monger chancò ok brevissimamente benefici o problemi o niente dal corso di teta healing per luci luci intera scorcio troppo accorso stata che ring tratta ma che si può fare che possa torna allora diciamo che in sé la tecnica del teta healing è un buono strumento per imparare a utilizzare le proprie capacità nelle altre dimensioni con gli risultati pia ronze tetta che ring sta prima gente cosa stefania vedo che però nella maggior parte dei casi le persone non sono consapevoli a tal punto da da far sì che non vengano interferite alla vita sovienzo è stato niente la scelta domenica ultimi abbre gli facciano non c'è più interferenze c'è con questa tecnica si è tra proprio in diretto contatto con tutte le altre dimensioni tutti gli altri tutti gli altri esseri viventi di tutto il cosmo tutte l'entità lo sappiamo sono che i tecnici e codici e lo spazio di contact schemi fermi a rami schemi in amministratta mista con tutti i disincarnati in tutti i piani che mi ha fatto a mio smart ma la maggior parte delle persone che lo fanno non sono consapevoli di dei canali che aprono all'interferenze e quindi vengono interferiti spesso e tra stop a dare un massimo fiore un interferenze posso chiedere questa domanda vero quella che ha inventato questa tecnica pulita l'ho visto volevo dirlo no fatti l'ho visto prima che di che dita lo chiedesse fai a fai a no se si viana gli hanno stival allora quando quando lei si è accorta di poter fare questa cosa era pulita e poi quando ha iniziato a insegnarla era insegnata attraverso delle interferenze e lei prende tutte le energie delle persone ma pacchetto cosa c'è se siamo partiti con testa poi arriva c'è interferenze ai potenzi abbracci all'arriotto e fisico stop ora usavanti tecniche ok tre parole metodo l'altro metodo che ci ha detto non possiamo dirlo perché nel caso dentro cametta trompe tavaro sì sì o no stessa meccanismo identico insieme almeno forte e meno forte l'apertura dei canali quindi un po meno importante ecco pensando a quadri e meccanismo all'erta otterrani e cannau otterrani c'è nata nella catena interferenze su upshot al suo parco cause sotterega degli sogni in cui sogna di volare e piaccia nata per la snuff lo stimo fioso signori o latano era maggior parte delle volte si accorge è come se si svegliasse nel ritorno dalle abduction santo momento in questo pacco che devono bugisce ho provato anni caso esoterica dei sogni in cui sogna il marito defunto sono stata retina snuff o smargo amazon ma li vedo che lui che arriva ancora legato a lei non si è andato viene proprio da lei avete santa trattata ne so che non sanno e tutta i miei anni ha fatto troppo strana e ne abbiamo portale aureo e lo chiamiamo tot forse portando sotto e non sa voi ma co chiamiamo anche tutti i parenti di tutte le generazioni di lusi di terra se strata di marcia che saracina lo si è passano un po con l'anero di oggi quanti sono i richiest 126 stava di stascia il marito si presenta poi la riusciamo se tac e sulla terra legate la stessa canzone da gemi si è legato a lei unità che stanza ne doni le vuole dire qualcosa state spaventate continuati a chiamarla e continua a dire che non mi ricordo continua a dire non mi ricordo mi muovi a i muovi rossi mia pamienta cosa fatto che tutto non sa dove sa chi è successo ogni legge che c'è la crisi smento gli anni che faceva con unico c'è vizio to time o più coca fish riprazia informatica sfida most allora visto che era nel loop era rimasto in quel loop lì è come se fosse sempre un pezzo di disco che torna indietro dove questa che non sapendo tenni ha detto a volta che caffè poeta adesso si rende conto di di come stanno le cose di come funziona terrasse vg maia metto friscato funziona e chiede scusa lussi per essere rimasto lì a bloccarla e prossimo si fa parte anni ha già tanto capo tam giocato copla cov a interferirla perché non avrebbe voluto questo il parlo senza scelta c'è interfera vuole dirle un'altra cosa vuole dirle che l'ha amata tanto il testo profetico la parte va bene lo salutiamo allora lo lasciamo andare con gli altri nel portale aurea da posto che noi ma con gli acuta siamo la frase in mente a portarlo se c'è qualcuno di vecchie sessioni che aveva detto che ci pensava e sarebbe entrato nel portale aureo più avanti vuole venire adesso che riesco a spazzarmi fra se c'è stato sanare a un attento festo portalo i terrestri c'è un petonico fest ma intendi direi che abbiamo che vediamo noi o in generale che arriva ce ne sono alcuni che è come se stessero tutti non c'è certo cosa ci arriva traccia votati alcuni no ce ne sono due che che non che non dicono che non è ancora ora che vadano e poi ce ne sono 27 che aspettavano questo richiamo ii esercizi 7.000 costo che ora cosa cercare in atta per i canvassati spieghiamo il portale e andiamo da luci cosa mecca me porta e ciò facciamo da luci chiediamo a luci se si vuole andare al cluster sapete meno se cazzo tacciata castra se si adesso la vedo molto più prima la vedeva un po così chiusa e incopita se la vedo molto più distesa e più allegra e più lucente c'è stato attacca scolona attacca mi aspetto per il nostro io a 30 volta che ha partito farta e portato caccia testa bene vado a vedere come sono fatti i suoi contratti e li toglie le butto in un portale definitivo ogni cosa parte a conferma mai ai contratti che succeda a portarlo definito un'anca politica ogni vita è un braccialetto fatto con tanti colori caldo se c'è una forma brans let che fa davvero colora sta buttando via adesso chiuso il portale definitivo non fa soltanto fisca e contratti esame cata un porta alla fine interna all'interno un qua o mi esce metano che il nodo torno ma ho fatto insieme dalla fatara via all'eterno un qua però fin asciuta teore avatar rita non vi è notato per non se messo bene come si ci aiuta con queste nuove condizioni ci sono ancora tutte le cose che abbiamo visto finora c'è più niente ma niente interferenze la paura strac no mia ma la t-shirt io non ho paura attacco sul caso ma più famiglia poi c'è se quella la tiene lo tiene ancora vuole ancora tenerla nel caso dovesse fiorare un pochino tact a un corso lo che è stata una felca si sapevate sommati la sua chiesa patac assolutamente d'accordo il casa la tiene in tasca da tirar fuori al momento del bisogno chiamata un corso che sani facciamo che neanche cosa mette vuole fare vuole vedere mettersi alla prova a vedere quanto riesce senza la maglietta e pian piano allenarsi a metterla sempre meno questa sabato jacks riparati per scosol che è vero che una volta che ha imparato è indifferente che l'ammetto oppure no ragazze che cos'è una volta tutta comprate ma statane ha già fatto un tango sul cavolo ma finché siamo nel gioco non si può prescindere dal gioco quindi si può tranquillamente indossare io nei vari nelle varie collezioni di commenti stupidi ai video che stiamo collezionando c'è basta con questo inglese mamma mia nostra pot nasciamini sassiani sono coppie commentato la testa ma anche il skin rispondere o mai rispondere ma fatevi una ma fatevi una vita questa limite se stavamo chiamati ma poi vi toccate il naso che con la pnl vuol dire che state mentendo potete smetterla bellissima al patate canite sa che no sai vado che programma dobbiamo fare una sezione gadget magliette costritte cose scritte list i commenti potete smetterla ma se c'è stata massimata con una serie con solo a questa pista ma si è prestato oppure un altro che ha detto che nell'indagine ringraziamo troppo spesso gli sponsor e strax e stessi patate 65 m sponsor e che magari fare le cose gratis e sarebbe anche il caso ma c'è ancora tra l'apprezzo fatta d'armo se loro io purtroppo la euro al mese la faccio e io purtroppo non ho risposto dopo 1120 video gratis il coraggio punto di domanda ai 8 vedeva un po te lo poi lo stanno una grania con la buona gratis va bene come ma nuova frequenza ea che sarà se grazie a valosi 118 miliardi poca miseria vibra e consapevolezza poi si fa da nostri carassi 119 per cento stagione che nasce però tanto psp addossato con una paga 67 33 60 santa 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 razzata vite precedenti in alito passate 2225 dovate santa triste andrà di scapia inter bello però tanto giovanna musco 9.3 g20 cina che c'è prota tutto vuoto non c'è niente c'è più niente mia mani messaggio finale e quanta faiata masciata rossino skype fai tutto inizia a fare tutto quello che che volevi fare ma che non facevi per la paura sacchini robic scottato c'è la sera piccata con esaginava la scanta nostra adesso adesso puoi farlo però siamo giusto tra picci allora è quello che mi fa vedere lei che inizia come se mettesse giunto il progetto cosa imiterà ma che c'è progetto come ce la vedo che scrive il suo progetto sapi storia tra tanto al progetto e mentre scrive e inizia impara ad alzare le vibrazioni il momento che cosa che sto vieta oltre sei a coppia di vibrazia vedo mi fa vedere il colore azzurro a casa che mi color nipieschi quindi la vedo che va anche all'aperto cosa limite oggi nasa e si immagina proprio di alzare le vibrazioni con l'azzurro e man mano si allena il trans posto la psdc tanto tu hai la maglietta puoi fare tutto gli do siamo veteras smaltano con sol catatrasmo successo puoi creare quello che vuoi ma lo sapere che era fatta tortasci mi fa vedere che può essere utile per lei viaggiare poca sui amita sdossar dopo abilità nei poteri safania entrare in contatto con persone di vari paesi e cosa mia prossima grattere contacto sabami sin cryo questa cosa qua da che cosa va bene bilo la vick ad eterno ma lei sa fare già tutto giusto uomo energia c'è ridostava più cosi che la faccia c'è la fiamma c'è la fiamma c'è la fiamma ma che resti posto uomo e ne lo vuole e lo vuole cattaccia davvero c'è spuomeno ogni peta lasciata un po caso come fanta con ce n'è lo si interessa avete attaccato né pomini da perché non vuole qualcuno che non vuole saperlo allora è nel passaggio nel senso che prima era come se fosse bloccata con il suo nel passato con il suo marito che è morto da te porsi poteca che donna bosa blokovano ten swoim da un mężon zmarlato da niente e quindi adesso che la notte l'occasione di entrare nel portale euro e si è sganciato da lei e teraz potengete wszakam do tego portalu a tu capio si od niej e nel passaggio per focalizzarsi sulla fiamma i teraz jest na takim etapie że może się skupić na poszukiwaniu na spotkaniu tego płomienia sfoieco e quindi in questo momento è come se fosse è come se fosse in creazione tra virgolette il momento è nata che la spontanea creativa è all'inizio dell'intento e deve metterci più deve allenarsi ad alzare a centrarsi di più ea focalizzare bene l'intento e tanta intensa la faccia fa ma è una uscita la segue con c'è sta buona fornacini e poi lasciarsi i brazzi senza citano intensi anche spotkacitante copominia comunque nel futuro la vedo nelle sue creazioni si evita a passare suoi ci vede già tempo a me e così grazie ok ho finito